Morta in gravidanza, l'autopsia in settimana, polizia controllate 297 persone, il Touring Club, novità e appuntamenti in provincia e poi come sempre lo sport, conto alla rovescia per gli italiani di canoa. Questo d'altro nel notiziario di TSN, benvenuti. Buongiorno e benvenuti nell'edizione del lunedì del notiziario di TSN. Apriamo questa edizione parlando del caso della donna morta durante la gravidanza presso la clinica Mangiagalli di Milano. Ricostruiamo l'accaduto nel servizio. È prevista per questa settimana l'autopsia sul corpo di Claudia Bordoni, la donna originaria di Grosio, morta giovedì 28 aprile alla clinica Mangiagalli di Milano insieme alle due gemelle che portava in grembo. Dall'esame potrebbero arrivare le prime risposte utili per capire cosa sia successo. Infatti la 36enne si trovava già ricoverata nella struttura proprio per delle complicazioni legate alla gravidanza scaturita da procreazione medica assistita effettuata all'ospedale San Raffaele. La procura milanese ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e presto invierà informazioni di garanzia ad alcuni indagati per verificare eventuali responsabilità dei medici nel decesso della Valtelinese, incinta al sesto mese, mentre il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha deciso di inviare gli ispettori nelle strutture sanitarie che hanno seguito la Valtelinese per accertare se nel decesso siano stati determinanti difetti organizzativi e se siano state osservate tutte le procedure previste a garanzia della qualità e sicurezza delle cure. Anche Regione Lombardia ha istituito una propria task force e ha fatto sapere che dalle prime informazioni raccolte non sembra evidenziarsi alcun elemento collegabile a negligenze da parte della Mangiagalli, ricordando anche che la clinica è il più importante e qualificato punto nascita regionale, mentre per la famiglia della donna ci sono lati oscuri e l'indagine li potrà chiarire. Intanto a Grosio, paese d'origine di Claudia Bordoni, da anni residente a Milano con il compagno quarantenne dove lavorava nel settore delle assicurazioni, regna lo sconcerto. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, titolare di un noto salumificio in paese. Gli amici ricordano quanto la 36enne desiderasse avere un bambino e come fosse felice di questa gravidanza. Oggi invece la disperazione. Sono momenti in cui non ci sono parole. Io poi sono amico del papà e si può esprimere solidarietà alla famiglia, dire che sono vicini alla famiglia. Ecco, una cosa che mi lascia perplesso, nel 2016 morire di emorragia in un ospedale, se è così la storia. Già dal 13 al 21 aprile scorso, Claudia era stata ricoverata al San Raffaele per delle complicanze legate alla gravidanza considerata a rischio. Il 26 aprile il ricovero alla Mangiagalli, dove è presente anche un reparto di terapia intensiva neonatale. Nel mezzo anche una visita all'ospedale di Busto Arsizio, dove si era presentata al pronto soccorso. Il triste epilogo giovedì scorso alla Mangiagalli. Per un'emorragia gastrica, come avrebbero stabilito i primi accertamenti. Vano il tentativo dei medici di praticare un cesareo d'urgenza per salvare la vita almeno alle gemelle. Ora l'autopsia è attesa per metà settimana, dopo che il PM Maura Ripamonti avrà acquisito le cartelle cliniche richieste ai tre ospedali. Dopo aver individuato i medici che hanno seguito il caso, probabilmente ci sarà l'iscrizione di più persone nel registro degli indagati. Anche come atto a garanzia per permettere loro di nominare consulenti per asseguire gli esami autoptici. Il procuratore di Milano, Pietro Forno, ha sottolineato che si tratta della morte di una donna alla venticinquesima settimana di gravidanza e non di un decesso durante il parto. E il San Raffaele ha chiarito che la dimissione dall'ospedale è avvenuta dopo aver accertato l'assenza di patologie generali e di natura ostetrica materno-fetale. La famiglia della vittima, infine, come spiega l'avvocato Antonio Sala della Cuna, vuole sapere cosa realmente sia accaduto, se si sia trattato di una fatalità o esistano negligenze ed eventuali irresponsabilità. Continuiamo con la cronaca. Un 25enne di nazionalità peruviana è stato fermato nel quartiere La Piastra di Sondrio dagli agenti della questura del capoluogo che gli hanno trovato addosso 6 grammi di marijuana immediatamente sequestrata dai poliziotti. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di verificare che a carico del 25enne pendeva un provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso alcuni mesi fa con divieto di far ritorno nel comune di Sondrio per tre anni per il fermato con domicilio in un paese dell'Interland milanese è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria in stato di libertà per la violazione del provvedimento di foglio di via e la segnalazione in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Se l'è cavata soltanto con qualche contusione il conducente di 41 anni che alla guida della sua automobile si è schiantato contro un muretto adiacente la carreggiata di via Gerone ad Albosaggia. La chiamata ai sanitari del 118 è giunta intorno alla mezzanotte allarmati dalla richiesta in codice rosso che fortunatamente si è rivelata meno grave del previsto. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale impegnati nei rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli uomini della questura impagnati nel presidiare, nel controllare il territorio. Ben 294 le persone fermate ma tutti i dettagli nel servizio di Elisa Compagnoni. Settimana intensa quella appena trascorsa per gli uomini delle forze dell'ordine impegnati in operazioni straordinarie di controllo del territorio nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di contrasto alla criminalità diffusa attraverso posti di blocco, servizi di vigilanza nelle zone cittadine di Sondro e Morbegno e con ispezioni e esercizi pubblici, gli agenti della questura del capoluogo in collaborazione con gli operatori del reparto prevenzione crimine di Milano hanno identificato 297 persone, controllato 158 autovericoli e 5 esercizi pubblici. Fra questi, due 19 anni residenti nella provincia di Monza-Brianza sono stati trovati in possesso di circa 12 grammi di marijuana oltre che di un grindel e di un bong, quindi segnalati alla competente prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Anche per un 22enne di Sondrio è scattata la segnalazione alla prefettura cittadina poiché ha trovato in possesso di una modica quantità di hashish mentre si trovava alla guida della sua auto, circostanza che gli è costata anche il ritiro dalla patente. Stessa fine anche per un 37enne di Morbegno, trovato alla guida in stato di brezza mentre un cittadino nigeliano domiciliato a Delebio è stato segnalato alla località autorità giudiziaria per l'esistenza pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Segnalazione che è scattata anche per un cittadino albanese di Lecco, un uomo di origine peruviana ma domiciliato a Milano ed un pregiudicato genovese per l'inosservanza del provvedimento di Foglio di Via, con divieto di far ritorno a Sondrio cui erano sottoposti. Incendio a mazzo nella tarda serata di venerdì 29 aprile quando un rogo è divampato all'interno di una baita in località San Matteo. Immediato l'arrivo sul posto dei pompieri con squadre provenienti da Sondrio, Tirano, Grosio e Grossotto che dalle 10 fino alla mattina successiva si sono adoperate per domare le fiamme 30 gli uomini al lavoro con autopompe e autobotti per spegnere l'incendio che ha interessato tutto il perimetro dell'abitazione. Dopo gli arresti dei giorni scorsi un altro presunto pusher è finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta ad essere scoperto è stato un benzinaio di Sondrio che con i suoi movimenti ultimamente aveva insospettito i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sondrio che quindi lo stavano tenendo d'occhio da alcuni giorni. Nella tarda serata del 29 aprile verso le 11 è scattato controllo, fermato a piedi mentre stava rincasando l'uomo risultato impregnato di un forte odore di marijuana motivo che ha convinto i militari ad approfondire gli accertamenti eseguendo un'accurata perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. L'intuizione si è rivelata esatta, infatti nascosti in alcuni barattoli occultati tra i generi alimentari all'interno di uno sportello in cucina gli uomini dell'arma hanno rinvenuto 63 grammi di hashish suddivisa in ovuli 40 grammi di marijuana, un grammo di MDMA comunemente nota come ecstasy il tutto sottoposto a sequestro insieme ad un bilancino di precisione e ad una banconota da 50 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il benzinaio è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e al termine delle formalità di rito accompagnato al carcere di Sondrio. Ed ora cambiamo argomento, parliamo del Touring Club italiano impegnato anche in provincia di Sondrio con numerose attività. Vediamo. L'attività del Touring Club in Valtellina e Val Chiavenna forse non è molto nota e più eppure la sede della nostra provincia è in crescita e sempre più impegnata sul territorio come ci spiega il console per Sondrio Gian Emilio Terranova a partire dalle bandiere arancioni. Sono dei veri e propri marchi di qualità che il Touring Club attribuisce a quelle località piccole devono avere meno di 15.000 abitanti poste nelle zone interne quindi non balneari e che rispondono a determinati criteri che riguardano sia l'ospitalità quindi un certo numero di strutture alberghiere, un certo numero di ristorante sia i servizi, il trasporto, la nettezza urbana, c'è uno staff indipendente che viene in incognito valuta tutti questi elementi e attribuisce questa bandiera arancione per adesso l'unica nella città di Chiavenna, la città del Mera però non è escluso che altre località in futuro possono candidarsi anche perché a questa bandiera arancione corrisponde sempre un vantaggio nel senso che vengono inserite nel circuito delle iniziative del Touring Club con i suoi 400.000 soci e conoscono senz'altro un notevole sviluppo non soltanto turistico ma anche commerciale. Quali sono le attività del Touring Club nel nostro territorio? Sul territorio poi abbiamo due attività che sono interessanti una della quale ha avuto sviluppo proprio due anni fa quella del sito aperti per voi l'Italia è piena di siti di interesse artistico, archeologico o altro che sono chiusi per vari motivi il più delle volte per carenza di personale però alcuni siti, e sono 33 in tutta Italia sono aperti grazie ai volontari del Touring Club e uno degli ultimi siti acquisiti a questo programma è la Santa Casa Lauretana di Tresivio che dall'estate del 2014 è aperta durante la stagione estiva grazie all'apporto dei suoi 25 volontari del Touring Club italiano. Tornando a parlare di Chiavenna questo fine settimana sarà protagonista di una bellissima iniziativa. Esatto, questa iniziativa è una visita guidata una visita guidata molto variegata perché non riguarda soltanto il centro storico con i suoi bei palazzi ma anche due piccole chicche sconosciute uno è il mulino del Bottonera è un sito di archeologia industriale veramente interessante da vedere lì sembra di essere ripiombati nell'atmosfera del Settecento con i mugnai che tagliano fanno l'attività classica del mulino e la galleria storica dei Vigili del Fuoco dove sono custoditi molti mezzi al termine di quella visita faremo una passeggiata lungo la bellissima strada pedonale lungo il Mera arriveremo a Prosto e ci fermeremo in un crotto per un momento piacevole conviviale di commiato alla scoperta dell'enogastronomia Val Chiavenna esatto le iscrizioni si ricevono presso la libreria Bissoni di Sondio che è la succursale Turing fino a mercoledì 4 venduti 8.283 biglietti raccolti 16.566 euro un successo che è andato ben oltre le più rose aspettative la lotteria promossa dalla GFB Onlus Tudoni, loro sicurano si è conclusa con l'estrazione dei 106 premi tenutasi venerdì 29 aprile presso il ristorante La Locanda di Talamona tutto il ricavato come ha ricordato il presidente del gruppo Beatrice Vola sarà destinato alla ricerca contro questa rara patologia di distrofia muscolare la betasarco-glicanopatia su questo fronte ci sono importanti novità con la terapia che sta per essere iniettata nei primi pazienti in America l'associazione non si ferma qui perché ora è pronta ad avviare il prestito terzo valore con Banca Prossima per continuare a finanziare la ricerca nei prossimi mesi invierà ulteriori comunicazioni a chi vorrà partecipare come creditore l'elenco completo dei biglietti vincenti potrà essere visionato sul sito internet www.betasarco-glicanopatie.it oppure sulla pagina facebook familiari betasarco-glicanopatie i vincitori potranno ritirare i premi a Talamona in via Gavazzeni 30 presso la sede Wildman sabato 14, 21 e 28 maggio dalle 10 alle 11 siamo in chiusura come sempre lunedì ampio spazio allo sport con la nostra Elisa compagnoni ed i risultati del fine settimana mi fermo qui vi ricordo il sito radio tsn.tv i social facebook twitter e poi youtube dove troverete tutti i servizi andati in onda all'interno del nostro telegiornale scriveteci all'email redazione chiocciola radio tsn.tv mi fermo qui grazie per aver seguito la nostra edizione ci vediamo al prossimo appuntamento con l'informazione lo sport buonasera amici sportivi ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica questa sera parliamo di canoa a boffetto fervono i preparativi per i campionati italiani che si svolgeranno il 7 e l'8 maggio fervono i preparativi per i campionati italiani di canoa under 23 specialità sprint di scena il 7 e 8 maggio a piateda precisamente a boffetto il comitato organizzatore e gli addetti della protezione civile stanno lavorando senza sosta per poter ripulire il fiume Ada da rami e tronchi e renderlo così perfetto per le competizioni che vedranno in azione i migliori interpreti della disciplina primo su tutti il beniamino di casa Giorgio dell'Agostino che nelle acque di questo torrente ha formato muscoli e ossa correre in casa è sempre bellissimo perché comunque è il posto in cui ti alleni è il posto in cui vivi quotidianamente è bello comunque riuscire a valorizzare il nostro sport e di conseguenza valorizzare anche tutto ciò che ci circonda che è la nostra bellissima valle e il nostro fiume che non è da meno anzi a confermarlo è un altro degli atleti di punta della formazione azzurra il Veneto Davide Maccagnane in forza il gruppo sportivo forestale da giovedì in allenamento sull'Adda tornare a Sondrio è sempre bello perché comunque è uno dei fiumi più belli in Italia e ci mette sempre a dura prova poi gareggiare bene qui ti riempie di gioia e questo ci gratifica del nostro sport in Italia purtroppo manca un po' questa visione della canoa è sempre un sport visto minore diciamo ma che in realtà non lo è assolutamente anzi chi fa questo sport deve avere un duro carattere e forza di volontà non indifferente insomma a dimostrarlo saranno un centinaio di canoisti fra i più forti della squadra nazionale con qualche talento emergente che fra sabato e domenica scenderanno lungo le ripide di boffetto pronti a giocarsi il tutto e per tutto in una manciata di secondi non solo per la conquista del titolo Under 23 ma anche per garantirci un posto per le prossime competizioni di Coppa del Mondo lunedì tempo di passare la segna ai risultati sportivi del fine settimana partendo dal calcio il Sondrio impegnato nella sua penultima partita in Serie D è uscito sconfitto dalla Pro Sesto sul campo di casa della Castellina per 1 a 2 nel basket la Pezzini continua a volare vincendo contro la Llorondinella Sesto per 59 a 57 mentre la BM sul classe al Gussola per 71 a 58 accedendo così al secondo turno dei playoff concludendo con il rugby purtroppo la Sertori non passa sul campo dell'Eco perdendo per 19 a 32 ed ora diamo la parola a Mirko Ronkashi che ci ricapitola i risultati delle partite di calcio disputate ieri Penultima giornata della stagione regolare per quanto riguarda il campionato di Serie D ma molti verdetti già emessi per questa categoria li ricorderemo tra poco Cominciamo con i risultati Busteseron-Calli-Fiorenzuolo 1 a 1 Ciliverghe-Lecco 2 a 4 Piacenza-Inveruno 2 a 1 Grumellese-Pontisola 2 a 1 Ciserano-Folgore-Caratese 1 a 3 Sondrio-Prosesto 1 a 2 Monza-Caravaggio 2 a 3 Pergolettese-Virtus-Bergamo 0 a 1 Olginatese-Mappello-Bonate 2 a 1 Varesina-Serenio 1 a 1 Piacenza-93 punti Lecco-77 Serenio-63 Ciliverghe-60 Pontisola-58 Olginatese-53 Inveruno-Ciserano-52 Folgore-Caratese-49 Monza-48 Grumellese-Prosesto-47 Pergolettese-Varesina-46 Virtus-Bergamo-Busteseron-Calli-45 Fiorenzuolo-Caravaggio-33 Mappello-Bonate-30 Sondrio-24 Dicevo dei verdetti al di là del Piacenza che ha vinto il campionato i più importanti riguardano le retrocessioni non ci saranno i play-out in questa stagione retacciono direttamente le ultime quattro classificate per cui Fiorenzuola-Caravaggio-Mappello-Bonate e Sondrio ripartiranno al campionato di eccellenza In promozione si è chiusa la stagione regolare con i seguenti risultati Speranza Gratte-Muggio-2-0 Arcellasco-Visnova-Giussano-3-1 Lissone-Biasson-1-1 Bresso-Prolissone-0-1 Colico-Derviese-Arcadio-Lolzago-2-2 Desio-Casati-Arcore-3-1 Merate-Vimercatese-Oreno-3-1 Dipo-Imercatese-Cinisello-2-2 Merate-70 punti Arcellasco-54 Desio-49 Dipo-Imercatese-48 Pro-Lissone-47 Speranza-Grate-Colico-Derviese-45 Vimercatese-Oreno-44 Cinisello-42 Casati-Arcore-40 Lissone-Visnova-Giussano-Ebiassono-29 Arcage-Lolzago-22 Alla luce di questa classifica Merate promosso in eccellenza Al play-off primo turno Le partite saranno Arcellasco-Pro-Lissone-Edesio-Dipo-Imercatese Retrocede invece l'Arcage-Lolzago Ai play-out Abbinamenti frutto anche della classifica a Vulsa La gara di andata Sarà tra Biassono-Muggio- E tra Visnova-Giussano-Ellissone Poi a campi invertiti Le partite di ritorno Il campionato di prima categoria si è chiuso Con tre sconfitte per le formazioni valtelinesi Passi false che hanno ripercussioni Anche sulla classifica E lo vedremo tra qualche istante Molteno-Limpiaretica 2-1 Morbegno-Svaldo-Zanetti 0-1 Barzago-Ponte Lambrese 2-2 Barzanova-Erbese 2-0 Missaglia-Cosio 3-1 Vedugio-Viberonchese 1-0 Mandello-Cornatese 2-2 Calolzio-Corte-Cortenova 2-2 Viberonchese 67 punti Ponte Lambrese-Barzago 58 Limpiaretica 57 Morbegno 48 Missaglia 44 Barzanova 43 Cornatese-Calolzio-Corte 40 Vedugio 37 Mandello 34 Svaldo-Zanetti 29 Corte Nova 28 Erbese 25 Molteno 24 Iverdetti Viberonchese promossa in promozione Molteno retrocede in seconda categoria Al play-off accede direttamente al secondo turno La Ponte Lambrese L'altra partita, quella valida per il primo turno Metteremo invece di fronte domenica prossima Barzago ed Olimpia retica in coda Gli abbinamenti per i play-out Gare di andata e ritorno Saranno tra Erbese o Svaldo-Zanetti E Cortenova-Cosio Invece di ritorno a campi invertiti Ultimo atto della stagione regolare Anche per il campionato di seconda categoria Con questi risultati Talamonese-Aurora 2-0 Dubino-Brivio 3-2 Valchiavenna-Bormiese 3-0 Civate-Bellagina 2-2 Albosaggia-Ponchiera-Berbenno 0-0 Chiavennese-Tiranese 1-0 Grosio-Rovagnate 1-3 Piantedo-Pontese 3-1 Aurora 66 punti Grosio 58 Chiavennese 55 Berbenno-Albosaggia-Ponchiera 53 Civate-Bellagina 40 Brivio 39 Romagnate-Piantedo 37 Talamonese 36 Dubino-Pontese 31 Tiranese 27 Valchiavenna 26 E Bormiese 22 Alla luce di questa classifica L'Aurora è promosso in prima categoria L'Avormiese retrocede invece in terza Al play-off Gara secca di primo turno Gli abbinamenti sono Grosio-Bosaggia-Ponchiera E Chiavennese-Berbenno Per quanto riguarda invece il play-out Gare di andata e ritorno Valchiavenna-Tiranese Infine la terza categoria Per ricordare che l'Alto Lario Vinto il campionato E' stato quindi promosso Al play-off Partita che si giocherà domenica Ardenno-Buglio Polisportiva Villa E con questo si conclude il nostro notiziario Vi auguro buona serata Sentirci a domani amici sportivi